Cari amici, finalmente un nuovo tresettino sul canale di Pisaniello, intitolato Chiesa in Crisi, con Aldo Mariavalli, Massimo Biglione e Guido Vignelli. Parte prima, quindi ci sarà anche una parte seconda. Bene, benissimo, al grido di è tutta colpa del concilio, con l'H questi quattro sapienti insegnano ai papi a fare i papi. E Paolo VI non andava bene, e Roncalli era mossone, era modernista, e Giovanni Paolo II ha fatto assisi, e Benedetto XVI si è tolto le scarpe nella moschea. E beh, certo, doveva entrare con le scarpe infangate, disputargli sul pavimento della moschea. Mi sembra giusto, perché poi quelli sono poco suscettibili, no? Insomma, tutto un florilegio delle solite cattiverie contro i veribali. Però, a questo punto, uno dice, bene, visto che siete così colti, preparati, ortodossi, sapienti, da poter insegnare ai papi a fare i papi, allora datecela voi la soluzione. Datecela voi. Perché in tutti questi anni non siete riusciti a partorire nemmeno una piccola idea di natura operativa? Come mai? O meglio, o meglio, una piccola, come posso dire, un piccolo impegno c'è stato, qual è stato? Quello di fornire supporto a Monsignor Viganò. Ecco, ammettiamo che i papi postconciliari abbiano fatto degli errori. Vogliamo parlare degli errori di Viganò? Vogliamo veramente entrare in questa caricatura della vicenda di Viganò? Il quale aveva maturato grande credibilità con l'affare McCurrick e poi l'ha completamente dilapidata. Si è messo a fare il virologo, invece di dire quello su cui tutti lo avrebbero preso sul serio, cioè che Bergogliano il Papa per un motivo canonico, no, lui ha preferito cominciare a fare il virologo e naturalmente questo lo ha ghettizzato nel mondo dei complotisti. Quindi tutta quella credibilità che lui aveva l'ha dissipata cavalcando una battaglia sicuramente giusta ma per la quale lui non aveva i numeri, non aveva la competenza. Poi ha parlato malissimo di Bergoglio per anni e anni senza mai dire che Bergoglio non era il Papa. Addirittura ha detto non possiamo dichiarare che Bergoglio non è il Papa. Riascoltiamo. Quello che non possiamo fare perché non ne abbiamo l'autorità è di dichiarare ufficialmente che Jorge Mario Bergoglio non è Papa. Poi, quando è stato chiamato al processo, invece ha detto che Bergoglio non è il Papa. Perché? Per la questione della sede impedita? No, e no, per carità, ha detto che Bergoglio non è il Papa perché è eretico. Poi lo stesso Viglione ammette che non c'è una giurisprudenza per deporre un Papa eretico. Quindi Viganò si è dato la zappa sui piedi, non solo, ma ha anche rifiutato tutto il concilio e così si è scomunicato la stessa intenzia. Poi ha avuto la bella idea di farsi riconsagrare Pescovo da Williamson, cosa che lo ha posto nel sede vacantismo non riconoscendo l'autorità di Giovanni Paolo II si è scismato e è diventato eretico, è andato contro il dogma dell'indefettibilità della Chiesa. Ha negato questa cosa della riconsecrezione? No, non l'ha negata. Ha risposto a mezza bocca e non ve lo posso dire per una questione di sicurezza. Lo stesso Valli ci è rimasto malissimo. Dopo otto anni di ritardo rispetto a quanto aveva già detto Don Minutella nel 2016, Viganò se ne esce dicendo che la rinuncia di Benedetto è certamente invalida. Quindi dà ragione a Don Minutella. Ma ancora una volta, non è che la rinuncia di Benedetto è invalida per la sede impedita. E no, capirai, figurati, ci mancherebbe altro. No, la rinuncia di Benedetto è invalida perché Ratzinger è eretico e modernista e quindi ha tentato una scomposizione impossibile fra monus e ministerium, eccetera, eccetera. Ma lo stesso Viganò fa un altro errore, un altro madornale errore e ammette che la rinuncia di Benedetto è certamente invalida al di là di quelle che potevano essere le intenzioni di Benedetto XVI. Perché dico un altro madornale errore? Perché ha svelato di essere d'accordo con Bergoglio. Come mai? Perché lui è stato informato da anni dell'esistenza dell'Universi Domenici Grecis. Dice, l'articolo 76 e 77, se la rinuncia del pontefice non è a norma del canone 332, come ammette Viganò, l'elezione del successore è nulla, è invalida. Quindi, cari maestrini dei papi, voi, oltre a non saper proporre nulla di operativo, il massimo che avete saputo fare è stato andare appresso a un mister magù come Monsignor Viganò, che le ha sbagliate tutte, dai tempi di McCary, che non ne ha imbroccata una, né dal punto di vista canonico, né dal punto di vista dei tempi, né dal punto di vista comunicativo, le ha toppate tutte. È finito in scisma, in eresia, si è fatto riconsacrare vescovi, è andato contro il dogma dell'indefettibilità della Chiesa, ha fatto una serie di errori incommensurabili e voi state a fare le pulci a Giovanni Paolo II perché quando gli hanno regalato il Corano, ammesso che fosse un Corano, lui, in modo tradizionale e rituale, lo ha portato alla fronte perché questo è il gesto che si fa sempre quando si riceve in dono un Corano. Capite? Questa è la grande colpa di Giovanni Paolo II e poi andate appresso a un eretico scismatico che si è fatto buttare fuori, si è fatto scomunicare la desendenza. E voi che cosa avete saputo proporre per salvare la Chiesa? Niente, niente. Non c'è stato nulla di propositivo, nessuna idea, se non la disperazione svenevole di Valli, che dice, oddio, che dobbiamo fare, che dobbiamo fare, eccetera. Quindi io non credo che voi vi possiate permettere di dare lezioni ai papi. Ammesso che non tutte le ciambelle dei papi sconciliari siano uscite col buco, voi andate appresso con un fallito, andate appresso a un fallito che ha fallito tutte le sue mosse. Si è scismato, scomunicato, eretico, anatemizzato. E infatti anche voi stessi lo avete mollato, tranne Valli che continua a tributargli qualche lenzuolata di solidarietà ogni tanto, per il resto anche voi lo avete mollato. quindi voi siete gli ultimi nella posizione di poter criticare i papi. Ora diciamo, vabbè, ma tu cionci che vuoi, pure tu, la tua istanza, la tua petizione, non hanno ancora avuto nessun risultato. D'accordo, è vero, però noi intanto abbiamo messo in campo quello che si doveva fare. Eh, io il protocollo l'ho messo in atto, Don Minutella ha collaborato, Don Minutella continua a fare il suo dovere di pastore, io ho presentato una petizione ai cardinali, ho presentato un'istanza al tribunale, poi chi lo sa come andrà, però quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, abbiamo fatto volare perfino degli aerei, campagne, volantini, camionvela, manifesti, divulgazione, articoli a rotta di collo, mille podcast sul tema, abbiamo cercato di intessere un dialogo, un'alleanza con voi che non avete accettato, neanche il dialogo avete accettato, neanche il dialogo. Quindi, nella lista di quelli che sono contrari alla svolta modernista, alla crisi nella Chiesa, voi siete l'ultima ruota del carro che può permettersi di criticare i papi. primo, perché voi non avete saputo proporre niente, secondo, perché andate appresso a un fallito come Figano. Uno che le ha sbagliate. Tutte! Tutte le ha sbagliate, Figano. Naturalmente, io credo che questi errori li abbia fatti apposta, ma se non ci dovesse essere un dolo, allora probabilmente sarebbe il prelato più goffo, maldestro e disattento di tutta la storia della Chiesa. Cosa che io non credo, credo che lo faccia apposta. Bene, cari amici, noi ci vediamo domani a Lugano, il 15 a Uboldo, il 21 a Candelo, il 29 a Terno. Caro saluto a tutti, grazie per il sostegno che continuate in pochi, pochissimi, a tributare a questo canale. Un caro saluto.